si va che c'è droner si va che dio c'è la mandi buona magari senza mutande netto il meteorite è tuo io ce la metto tutta per andare su a sprofondo questi qua sono tutti questi ti rompono il culo gioca con calma scendi bene per il meteorite se vedi che è un problema non so cosa dirti preghiamo cittadone già vanno sul meteorite ok allora niente meteorite ci vanno instant mi pinghi guarda qua davide 1805 sottolineatura è dei nostri ok k blu le collo tutto io sono su un albero se tu dove ah ok allora se ecco ricordi dove sei sceso vuol dire che non ci scenderà mai nessuno non sono anche le mie ok si capito dove sei io lo so dove sei sei a destra di bordo ti trovi le cose ti sei riusciti a farmi qualcosa ma mi vorrei avvicinare a lei oppure questo lo devi capire tu nettuno questa è una bella domanda per cortesia chat sapete che è impossibile per noi giocare questo lì come tu li stare attento vai che c'è gente che sta sparando qua da me stanno scannando nettuno stai attento eh e poi non ti puoi avvicinare adesso a me non mi puoi far sottare ci sono un pozzo bravo bravo c'è un pozzo c'è un pozzo gg porco cazzo gg l'abbiamo studiato tanto sta cosa sì mi hanno bildato davanti mi hanno bildato non ridere nettuno piano piano per favore con calma con calma con calma siamo in 84 va tutto bene con calma ma non potevate provare a contestare il meteorite tanto non si può abilitare lì se io mi faccio vedere a qualcuno ma l'abbiamo già fatto proprio gli alberi non però gli alberi ok potrei cadere vettuno se cado ti devi salvare tua e io rimango qua finché non provano a rompono gli alberi sotto di mezzo di puoi ripetere cosa di cosa non ho capito mi dicono che però c'è mike che mi sta castando verso l'albero ma non casti per cortesia si stanno distruggendo di brutto sotto nettuno e dico che se scendiamo sotto i 70 è quasi god per noi è molto sì sì proviamoci che guarda lettura io sono concentratissimo nel non muovermi metto metto anche un piccone piccolo così non mi esce da fuori gli alberi tu non faccia uscire nulla la prego io raga vi voglio bene questo non è il mio orario sono felicissimo di partecipare a questa cap ma non pretendete che per le parti iniziali del game noi facciamo qualcosa e tu io guarda che non sto scherzando può succedere veramente di tutto su questo torneo ricordati consistente is the way ok che cosa vuol dire a gente sotto di lei si aspetti non ti muovere nel tono e paura hanno guardato su tutto intorno ma non sopra l'albero e questo è molto buono il offre non sarebbe meglio non abbiamo preso un punto più ragione anche tu nettuno sì sì sono ci sto sono d'accordo cerchiamo qualche modo di fare ai raffa cercando pure in giro ho già trovato delle vendite sono verso il petto provo i magazzini per vedere se c'è qualcosa se tu trovi una soluzione per cercare di andare in safe sarebbe god nettuno ok io non ho pure quindi devo rientrare in sé ma la vedo molto male e tu non il mio ringresso in safe si salvi lei si salvi lei ok non abbiamo ancora preso un punto che è impossibile che nato sono morto merda porca puttana che cecchinata non sono anche chi mi ha ucciso ma prendo la scheda ma sei pazzo no 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 pensa alla safe mettono hai un altro rift si ho preso il rift del coso wow vai di l'offa vai di l'offa la safe toglie ancora uno non c'ho non c'è a cure xio metto su questo albero provaci 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 quell'albero lì in safe nettuno io ripeterei di nuovo nettuno io ripeterei di nuovo si trova una prova in centro da qualche parte piccati sotto in qualche modo da qualche parte nettuno scendi picchiata scendi picchiata non si può giocare così wow wow difficile ho preso una cerchia da 250 metri io nettuno cosa facciamo nettuno la prego nettuno di non ridere la prego che ha detto lei all'inizio appena appena è entrata in gruppo allora l'idea è o andiamo a contestarci cioè o andiamo dove abbiamo detto che scendevamo sì sì e ti fa il 50 contro martex sì 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 per forza è l'unica cosa 4 kg ho tradotto sì nice 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 si punta alla top 90 atterrata pinnacoli contesti vino io proverai la sky dice qualcuno ok 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 non lo so nettuno non mi vengono giocare insieme ci inculano cioè c'è poco da fa sicuramente è prova vediamo cosa succede se provvede di nuovo al coso alla alve trite provi provi lei provi faccia quello che senta ok però un motorito al massimo scendo gioia e vada va bene tu prova il motorito vai lei dove va io vado alla torre di sudan hanno già luttato qua malibuca e il socio un rift ha detto no calmo che un rampino oh cristo cosa un signore col kart sì non sanno che sono qua non sanno che sono là neanche il tempo di riftare c'hanno un anonimo però questi come? c'hanno un anonimo dico che sapessero che fossi qua dice beh per come si stanno comportando direi di sì qual'è la sua strategia adesso? c'è aspetta non mi faccia il misterioso qual'è la sua strategia non ce l'ho farmi quella roba qui non esca non esca che sta dentro bene farmi tutto lasci i muri a uno li farmi lasciandoli a uno nettuno cerchi di darsi da fare perché c'è gente qua vicino allora non lo faccia esatto la moltiplicazione delle mitraglie top 36 nettuno vorresti vedere la map per il prossimo torneo looker? certo tieni tieni caro eccola qua così potete vederla se avevamo anche un minimo di possibilità che non ci venissero a prendere ora non ce l'abbiamo più nettuno deve andare in segno la prego vada la prego non vada è grigia eh no sei morto perfetto nettuno easy bene oddio è impossibile è impossibile merda puttana eva merda sono le 9 e un quarto mi sento già male mancano ancora quattro partite non mi sento molto bene non ci sentiamo bene appena io muoio alla settima io saluto e chiudo come un pazzo te lo dico nettuno chiede subito con una velocità che guarda speedy gonzalez mi può fare una pompa bene ho tante parolacce che mi stanno per uscire già si 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 a terra qua tu eh si e l'acqua no no nettuno a terra la casa io fulmino i forzieri al volo gli taglio due forzieri e scappo eh si ricorda che c'è malibuco gli taglio due forzieri e scappo non vado neanche alla casa gli taglio un forzieri in fondo nettuno ok questi sono tarpe di persone che hanno già tarpato e noi siamo gli ultimi che stanno ruotando stanno ributtando a pinnacoli quindi mo tutti sono concentrati su pinnacoli a breve qua riftiamo eh nettuno oh porca miseria cioè lui ributta tranquillamente a pinnacoli ok cioè ributtavo io a pinnacoli vinculavano ok c'è sicuramente gente basta 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 rischiare così tanto ok ok non rischio più però eccomi vogliono cechinare non solo dove però ci stavano e me ovvio proveranno cechinanti tutti i metri di fianco a me e build in metallo qua di fianco senza fare altre build qua di fianco a me anzi te lo buildo già io non fare niente mi dai un pochettino no non mi dai un cazzo stai qua e siamo perfetti easy nettuno buono buono sì cazzo nettuno buono sì nettuno così così mi piace aspetti aspetti guardo da sopra calmo 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 non esca eh certo che esco nettuno no no e guardi da sopra scusi con la cappellina c'è gente lì davanti scusi che c'è gente quello che fa è in safe ok ok non venire eh no 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 vengo non è un problema non è un problema un problema 50 50 se riuscivo a piazzarmi rein safe altrimenti tanto non possiamo fightare viaggio sempre con rift in mano o rampino adesso io riferisco non puoi stare in piedi non puoi stare in volo non puoi stare in volo posso torna indietro piuttosto torna indietro esattamente per questo motivo da quello ma ha busciato in realtà lui stava ruotando mi siete beccati no no è appicciato come no lei pensa che lo stasse busciando è figa sono venuti stava busciando se non stava ruotando accanto a me accanto a te perché pensava che tu gli sparassi ma no no lui stava lontano si è avvicinato col rampino ok allora la stava busciando continuiamo a seguire intanto questo meraviglioso incredibile torneo in no build dove l'equilibrio è la parola d'ordine pazzesco dentro in dieci giocatori sei team rimasti cosa sta ridendo nettuno mi scusi perché ride nettuno perché lei fa le battute serie ma sa che perché ride nettuno se picconi malibuca 40.000 patate ma solamente la picconata poi deve morire quello il punto cioè tommy se io faccio una picconata malibuca vinco 40.000 patatine io te lo dico mi butto su malibuca te lo dico il volo potrebbe fare la doppia tacchini contro vino non ce la fa vincono vino e tason si zio non c'è bisogno che flexi pezzo di merda con i capelli da stunnato non ce ne frega un cazzo che flexi minchione esatto ah cavolo 200 patatine no no la volo lasciate stare ce lo fa un bel camon per questi punti su dai dai dammi le top no e lo so ancora dopo 24 ma veramente sì sì ancora dopo 24 ma tra poco la muoiono un altro morto dai un altro solo e poi prendiamo l'altra eccolo qua top 23 noi sono sei punti retturo si o altri tre punti prendere le altre patatine altri tre top scusi e ce ne vuole un pochino ho visto come esatto non possiamo usarlo questo era un pino quello buono top 22 no no va bene va bene però o buono raga gg figa nice sì lei ha ragione si morirà per forza due team eccolo qua un team appena morto dai un altro ho 26 ne manca uno esatto no io sto immaginando in questo momento zara cosa vuole dire ad ardi posso immaginare no non voglio immaginarlo è per questo veramente qua c'è come un non lo so è un demone in questo caso adesso io vorrei sapere come mi ha visto sono veramente curioso di saperlo sono veramente curioso di sapere come cazzo io sia come come cazzo mi ha visto c'è gente mi sono mosso c'è gente che si è mossa ah lei è andato molto avanti no non posso lei c'è il rampino eh si è per quello che sono andato rimango qua martex è morto ok pink è morto martex finito pink è definito mi sono avvicinato un po' di più al centro safe ho visto ho 29 si sono sull'unico albero che c'è nel deserto c'è un problema di fondo cioè a quel punto la tenevano in no build cazzo ah perfetto easy proprio ne hai parato in movimento Ez bravo bravo sei forte è la tua vita fortnite bravo che cazzo è la mia card si ma sei pazzo adesso oh merda nettuno ma sei pazzo lo sai che siamo morti vero si 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 questa è proprio quella porcata delle 11 e mezzo niente nettuno ributta ce la fa l'olio di merda ha ammazzato non ce la posso fare io nooo eh ciao meno male per venire a pushare lo stanno sprayando mi sa ah questo è un altro team e chi sono questi qua ah sei morto si playboy un'altra volta loro finito così ragazzi è finito vabbè Nettuno lei si è divertito? si molto io sono contento tra l'altro ho fatto top 20 top 20 abbiamo fatto quindi abbiamo fatto una valanga di punti io Nettuno non ha preso tipo la bet ma guardi l'ho preso nel culo sinceramente